Non sapete cosa fare come antipasto di Natale? Nemmeno io! So solo che come al solito saranno tutti da me Perderò un sacco di tempo per mettere a posto e apparecchiare la tavola E avrò pochissimo tempo per cucinare E allora ho prestato questa ricetta Perché esagerare si fa in 5 minuti? Praticamente dovrete solo mescolare insieme formaggio spalmabile, farina di pistacchi e parmigiano Poi prendete un cracker e tirate fuori tutte le vostre doti artistiche Perché lo so che in fondo in fondo le abbiamo tutti Farina di pistacchi anche sopra E oltre ad essere un antipasto, volendo sti alberelli, possono anche essere un segnaposto Sono bellissimi, facilissimi, velocissimi E anche oggi all'aceto e grembiule, provatelo anche voi!